Dei migranti e non solo dei minori che tentano la fuga dai centri d'esta allarme sociale. C'è da dire che oggi il sistema dei controlli è molto più puntuale dall'inizio della pandemia perché oggi vengono fatti i tamponi e faranno delle proposte i prefetti per utilizzare eventualmente delle caserme che possano consentire la sorveglianza sanitaria per i 14 giorni necessaria ad evitare rischi alla popolazione.